ciao ragazzi vi mostrerò adesso come fare un'impostazione per una timeline con le dimensioni dei fotogrammi del filmato come vogliamo noi in maniera personalizzata allora intanto io sono dell'idea di crearsi un campione come con varie cartelle in maniera di avere un certo ordine si salva come campione e successivamente dal campione test lo rinomineremo sempre ogni volta apriamo il campione poi lo rinominiamo importiamo la clip adesso io voglio fare un'impostazione differente da quella tradizionale del 16 noni quindi vado in sequenza impostazioni sequenza metto personale e qui mettiamo 9 20 praticamente se vedete viene fuori più stretto un effetto cinema l'esportazione niente meno rispetterà il formato che io ho deciso che quindi è un 1920 x 920 un formato più stretto facciamo un altro esempio allora io diversamente vado in sequenza impostazioni sequenza e voglio fare invece 1080 x 1080 mi serve un formato quadrato a me piace così ok ecco qui abbiamo un formato quadrato quando io andrò ad esportare sarà un 1080 x 1080 posso andare poi a modificare se voglio altri parametri che saranno il bitrate di destinazione comunque io quando esporto avrò un filmato quadrato oppure formato cinema allungato spero di essere stato chiaro ciao ragazzi a tutti buona giornata